musica musica e bello a tutti i genitori per questo video grazie e finalmente oggi siamo tornati in una nuova challenge in compagnia del nostro caro accent signori che ce l'avete qui accanto a me ciao a tutti finalmente mi ha presentato l'ultima volta comunque genitori oggi siamo tornati in questa nuova challenge indovina chi signori l'aveva già fatta exit un po' di tempo fa con un suo amico se non mi sbaglio giusto con il tuo amico si 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 quindi oggi noi la riproporremo su fifa 16 signori vabbè regolamento ve lo spiego subito andremo a cercare i giocatori nella lista trasferimenti ora ovviamente daremo degli indizi e dovrà cercare di dominare il maggior numero possibile di giocatori entro 3 minuti signori innanzitutto superiamo i 150 like e passatevi a vedere il video di ieri perchè è stato epico quello su in segreto di fifa dove abbiamo visto i segreti di fifa e la top 10 for covering della storia ok vado via quindi signori io direi che si può iniziare sei pronto exit? prantissimo mamma sto facendo certe bacce che puoi farci un album davvero ok ci facciamo un album porno primo giocatore è Sampdoria italiano bomber eeeh ed R ok poi secondo giocatore portiere nicca campionato francese 82 overall perfetto in forma Dio Zlatan esatto poi andiamo avanti e allora eeeh cinque stelle abilità campionato inglese nicca AS Bolasier ok eeeh brasiliano terzino destro 81 overall Dani Alves nooo terzino destro Marsello nooo no candidato spagnolo Danilo esatto Danilo prossimo giocatore all'elico Madrid trequattista spagnolo 84 velocità 85 passaggio trequattista in che senso? COC COC eeeh come Gabi no come quella salto 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 attaccante l'elico Madrid leggenda Torres esatto leggenda ex inter campionato ormai penso greco 80 di tiro 80 di dribbling greco 79 ex inter greco attaccante campionato greco ex leggenda dell'inter diciamo famosissimo campionato greco è famosissimo ex inter attaccante Morigno ti ricorda Melito salto 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 e tu e tu si porca puttana mi ha avuto in mente tu allora ehm svizzero volsburg portiere 81 overall svizzero portiere svizzero portiere del volsburg salto 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 anche questo vai ehm capellone bergio bergo si dice ok andiamo avanti difensore centrale liverpool pelato 82 scroll ok terzino destro campionato francese costa d'avorio nigga 82 ehm aurier ok brasiliano magister city nigga brasiliano magister city nigga nigga benzer city brasiliano salto comunque ricordati 3 minuti ok ehm esterno destro buggato giocatore più veloce non contandogli in forma inglese abu yang no campionato inglese e inglese timer scaduto inglese dai finisci walkout esatto ok hai preso pure walkout ok signori ehm non sappiamo chi ha vinto perchè lo scopriremo solo dopo l'editing anche noi signori se vi siete persi la sfida sul canale di exit vi lascio il link in descrizione signori beh come dire questa sfida è stata abbastanza veloce ma penso che abbia vinto si si ma anche misterioso perchè non sappiamo tra di noi chi ha vinto dovete dirlo voi nei commenti chi ha vinto perchè noi lo stiamo registrando abbiamo prima registrato quello di exit adesso quello mio uno dopo l'altro proprio così a buffo e quindi non sappiamo chi ha vinto quindi scrivetelo voi qui sotto nei commenti qui di gioia e i gnurri come sempre qui ad alox è tutto un saluto da exit bella ragazzi team talox team different bella ragazzi tu nomi un saluto Grazie a tutti